Non ho una vita sociale! Nuovi piccoli trucchi per migliorare la tua vita sociale. Oggi vediamo un articolo di Nico che ti mostrerà come migliorare a dismisura la tua vita sociale. Ma prima di continuare, ti consiglio di scaricare l'estrato di Vinci la timidezza in 30 giorni. Ti sarà utilissimo per iniziare a lavorare sulla tua timidezza. Clicca qui al lato per scaricarlo o trovi il link anche in descrizione. Ciao a tutti ragazzi, come state? Io molto bene e vi confesso che ho avuto delle serate fantastiche. una più bella dell'altra e ho capito cosa distingue una serata normale da una serata indimenticabile. Sono talmente contento che voglio condividere con voi questa felicità. Sì, perché non c'è niente di meglio al mondo che aiutare le persone ad avere una vita ancora più bella. Ecco perché in questo articolo vi insegnerò qualche accorgimento per far andare non solo bene, ma magnificamente una serata, trasformandola in un'occasione per conoscere ragazze e gente nuova e migliorare una volta per tutte la tua vita sociale. 1. Cura il tuo aspetto. Vestiti in modo appariscente ed elegante. In questo modo entrerai nella giusta mentalità e ti farai notare. L'influenza che ha il tuo look sul tuo inner game è sorprendente. 2. Invita sempre nuova gente. Sembra scontato, ma in verità non lo fanno in molti. Quando ti trovi bene con una persona che hai conosciuto da poco, perché non invitarla a una serata con i tuoi amici? Non chiedere il permesso a nessuno. Vi solo ai tuoi amici che porti qualcuno. A tutti fa piacere conoscere nuova gente, quindi invita senza problemi le persone con cui ti trovi bene e invitale a portare altri amici. Non c'è niente di male, o no? 3. Esci con i connettori. I connettori sono quelle persone che conoscono mezzo mondo, quelle persone che, quando esci con loro, si fermano a salutare la gente per strada. Un po' come me. Hai notato che queste persone curano i rapporti e che si circondano di gente con cui stanno bene in ogni ambito della loro vita? Lavoro, palestra, amici di infanzia. Ti confido un segreto. Non c'è niente di più sexy per una ragazza che frequentare un uomo che ovunque va si circonda di persone e che sa stare bene in mezzo alla gente. Impara da queste persone, così migliorerai la tua vita sociale. Io, per esempio, ho un grandissimo amico che mi ha presentato veramente tanta gente nuova e ho imparato un'infinità di cose da lui e gli devo molto. Quindi, frequenta i connettori per conoscere gente nuova e, soprattutto, impara da loro come si fa. Quattro, proponi un locale molto frequentato. Se proponi un locale molto frequentato, aumenti notevolmente la possibilità che le persone che hai invitato vengano con te e si divertano. In più, in questo tipo di locale, è ancora più probabile che incontri qualcuno che già conosci, che ti farà conoscere a sua volta la sua compagnia di amici. Cinque, parla con tutti. Sì, devi essere socievole con tutti. Anche se qualcuno non ti è molto simpatico, essere gentili con tutti è indice di alta intelligenza sociale. Sto dicendo di essere gentili, non di essere servili, ovviamente. Interagisci con le persone che hai appena conosciuto. Il sabato sera si esce per divertirsi. Quindi non disturbi nessuno. Sono tutti lì per divertirsi come te. Ricordatelo! In ogni caso, impara a socializzare con baristi, butta fuori EPR perché possono rivelarsi conoscenze molto preziose, per non dire che entrare in un locale dove conosci il barista fa veramente molta classe. Sei, accompagna o fatti accompagnare da qualcuno. Ti mette già nel giusto stato d'animo uscire con un amico o accompagnare un tuo amico in un locale, perché ti fa sentire bene e rilassato. In più, arrivare accompagnato in un gruppo ha un buon impatto sulle altre persone, perché dà l'impressione che sei un uomo socievole. Sette, fai tu le presentazioni. Quando sei in compagnia e magari incontri nuove persone, soprattutto nuove ragazze, se sei in compagnia, prendi tu l'iniziativa di presentare i tuoi amici e le tue amiche. Alcune donne, a volte, si fanno dei problemi a presentarsi, quindi pensaci tu. Sei tu il fulcro della serata. 8. Fatti scivolare ogni malumore Durante la serata possono capitare delle piccole cose che possono metterti di cattivo umore. Devi imparare a fartele scivolare. Ti faccio un esempio che è successo a me. Una sera dovevo andare a prendere una ragazza che mi interessava e all'ultimo mi ha detto che si era già sistemata con il passaggio. Peccato che io mi ero fatto mezza città solo per lei. Ma mi sono incazzato? No! Sono rimasto imperturbabile e con molta tranquillità gliel'ho fatto notare. Poi abbiamo passato una bella serata insieme. Anzi, è stata un successo! Se mi fossi arrabbiato con lei, probabilmente non avrei combinato nulla e non mi sarei neanche divertito. Oppure, se un tuo amico ti fa una battuta un po' pesante, ridi senza mostrare che ti ha dato fastidio. Buttala sempre sul ridere. In questo modo fai sì che la serata vada per il meglio per te e anche per gli altri. Perché se capisci che è inutile prendersela, perché incazzarsi? Quindi impara a rimanere imperturbabile quando capisci che non ne vale la pena. Nove. Fai un po' lo scemo. Questa non te l'aspettavi, vero? Bene, chiariamo subito cosa voglio dire per evitare fraintendimenti. Quando si studia e si applica la seduzione, si aumentano molto le proprie capacità seduttive, ma si può anche creare un problema non da poco. Si rischia di irrigidirsi su degli schemi e questo si ripercuote anche quando si passa una semplice serata tra amici. L'inner game risente molto spesso di questo, perché stai seguendo uno schema che ti porta a valutare le tue azioni e questo non va bene, perché ti limita molto e la paura di sbagliare ti mette in soggezione. Io ti propongo invece di fare un po' lo scemo a volte, cioè di uscire da questi schemi, ad esempio, con delle battute divertenti, senza preoccuparti se stai facendo giusto o sbagliato. In questo modo ti libererai della paura del giudizio degli altri e della paura di fare errori. In più ti mostri come una persona simpatica e divertente. Prima di salutarci, ti consiglio di scaricare l'estratto di Vinci la timidezza in 30 giorni. Ti sarà utilissimo per iniziare a lavorare sulla tua timidezza. Clicca qui al lato per scaricarlo o trovi il link anche in descrizione. Grazie a tutti. Grazie a tutti.